154 voti favorevoli, 405 contrari. Tre astensioni a parte, nel caso Cancellieri si riflettono i numeri delle larghe intese, ma anche in filigrana tutti i disagi di un partito, il PD, che pur privo ufficialmente di Falchi e di Colombe, è sembrato percorso ieri più che mai anch'esso da un solco che divide governisti a tutti i costi e no. Tanto diviso da richiedere addirittura l'intervento in un'assemblea dei parlamentari del presidente del Consiglio Letta a chiedere apertamente di salvaguardare il governo da lui presieduto. La Cancellieri, che in aula ha ribadito nessuna bugia, nessuna omissione, solo comportamenti secondo dovere e coscienza, dunque passa la prova tra le rimostranze di un Movimento delle 5 Stelle sconfitto solo dai voti, i cui deputati hanno fatto squillare i telefonini ed esposto, meglio composto, scritte esplicite contro il ministro della Giustizia, Cancellieri a casa. Il prezzo del salvataggio non è ancora quantificabile, ma nessuno al momento trova argomenti per esultare. A cominciare, se non proprio dal governo, secondo Epifani da ieri più debole, da un partito, appunto il PD, che dopo essersi pronunciato in gran misura, se non per la sfiducia, almeno per le sue dimissioni prima del voto, alla fine le ha steso alla Cancellieri la rete di sicurezza decisiva, limitandosi a chiedere per bocca di Epifani un impegno a rimuovere le critiche che hanno portato una parte dell'opinione pubblica a poter pensare che ci si sia comportati così perché da una parte c'era una famiglia di potenti. Secondo Brunetta, una finzione ridicola che trasforma il Parlamento in una sala giochi, in una guerra tra Renziani, Civatiani, Lettiani, eccetera. Una scelta guidata, se non proprio forzata, comunque che non ha mancato di suscitare nuove proteste a quel che scorre in rete da parte dell'elettorato del PD e nuove reazioni da parte di coloro che più di altri si erano espressi contro la Cancellieri. Pippo Civati, che dopo aver votato la fiducia per disciplina di partito ha parlato apertamente di ricatto o così o nulla, ha detto, e soprattutto il candidato più accreditato alla segreteria Renzi, che alla gabbia ieri sera ha rimandato il suo conflitto più o meno latente con Letta a dopo l'8 dicembre, quando, come tutto fa pensare, sarà lui a guidare il PD. Il governo Letta dal 9 dicembre ha un'agenda nuova, che non vuol dire che c'è la rubrica nuova di telefono.